Come fai a capire se ti tradisce? Io sono Federico Picchianti e oggi vediamo 5 segni per capire se ti tradisce Allora, questi segni sono dei segni a volte ovvi, a volte devi starci attenta Ti ricordo sempre che trovi i miei libri su Amazon.com e che puoi iscriverti ai canali privati dove metto video privati di seduzione Al link in bio cliccando consulenze private e lì poi trovi tutte le varie opzioni per consulenze iscritte Ti ricordo di iscriverti al canale e iniziamo Mi sono preso degli appunti Allora, la prima cosa che fa una persona che ti tradisce è quando inizia, ovviamente inconsciamente, bellamente A parlarti di una persona nuova Inizia a parlare molto Ah ma lo sai che c'è questa ragazza che fa questo? No ma siamo amici, però sai fa questa cosa, fa questo, fa quell'altro E incomincia ad elogiare, incomincia a dire delle cose carine di queste persone Di questa donna in particolare, o di questo uomo in particolare Incomincia a darti degli spunti, degli spunti magari dove sono, degli spunti di pensiero Che ti diciamo ma come mai stai elogiando questa persona, come mai sta pensando questa cosa di questa persona, eccetera E dice delle cose carine di questa persona, dice delle cose... Diciamo lei elogia, ecco E ti mette a volte anche a paragone con questa persona Dice delle cose come Ah no, perché vedi lei ha fatto questa cosa, non puoi capire Così, con la siamo amici, ci vediamo, bla 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 Già questo è un segno abbastanza ovvio Quindi non mi direi, vabbè Federico, ma questo è ovvio, ma che cazzo dici? Ok, let's get to the second one Andiamo al secondo Il secondo è quando cambia drasticamente il look Tu adesso mi vedi così Io porto questa barba da Forse 7-8 anni circa Porto questa barba in generale al massimo l'accorcio Porto questi capelli da almeno 6 anni circa Da 2013 I capelli li tendo a portare così, in questo modo Salvo casi estremi Se tu domani mi vedi che cambio completamente il mio look E ovviamente noti una forte e drastico cambiamento Annesso agli altri segni dovresti farti due domande Cambio un po' il look Vedi che porto sempre certi vestiti E cambio completamente il mio stile O mi curo in modo eccessivo Ok, quindi questa cosa è importante capire Quindi vedi che mi sto iniziando a curare in modo eccessivo Se mi noti che sono trasandato Guarda qui con la maglietta della salute Pijama Cioè qui proprio devastato Cosa fai? Mi guardi, mi inizio a vestire tutt'altro modo Mi vesto magari sgargiante Io adotto sempre il nero I jeans Ho sempre gli stivali Noti che ci sono delle cose che cambiano, no? Quindi questo dovrebbe farti accendere qualche campanella Il terzo segno è che è distratto E ti critica molto Allora, se una persona è distratta E ti critica spesso Ti sta inconsciamente paragonando Cioè Io ti critico Penso delle cose di te che possono essere negative Penso delle cose di te che possono essere poco Producenti Poco funzionali A migliorare il nostro rapporto Il rapporto che c'è fra me e te E giustamente ti critico Inizio a dire delle cose di te Che magari prima mi andavano bene Adesso mi andano più bene E dall'altra parte Cambio completamente il look Prima Poi faccio anche questo Poi faccio l'altra cosa Il primo punto Tutti questi poi si fanno a mixare E sono distratto Quindi non ti corteggio più come prima Cambio la traccia comportamentale Che è il quarto punto Il cambio drastico Ovvero il cambio drastico Del calendario Del comportamento Cambio il mio comportamento Nei tuoi confronti Per fare che cosa Non lo sai Perché in realtà Ho la mia routine Forse sto cambiando la mia routine Perché mi devo vedere con l'amante Perché ti sto tradendo E allora Cambio la routine La mia routine Magari adesso è Fare i video 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 Consulenze Scrivere Quello quell'altro Poi da un giorno all'altro Il sabato e domenica Invece di Magari decidere di passare Del tempo con te Cosa che abbiamo sempre fatto Di punto in bianco Dico no guarda Oggi il pomigio Devo uscire con gli amici Inizio a mettere questa cosa Dove il samba Tutti il pomigio Devo andare con gli amici Ma tu non sai dove sto Non sai bene Che cosa sto facendo E ti fai delle domande Questi amici In realtà potrebbero essere un amante Adesso questo è un esempio Però prendi spunto E andiamo al quinto punto Che è l'inizio Che questo è simile ovviamente Al terzo Che ho detto prima È quando ti inizi a paragonare Agli altri Allora io ti vedo E dico Ed è simile anche al primo Quando parlo di una persona nuova Ti paragono in parte A quest'altra persona Quindi ti dico Ah ma sai Invece questa ragazza Che ho conosciuto Lei si mette sempre la gonna No non puoi capire Si peste sempre in questo modo Potresti farlo anche tu Vedi tu non lo fai Se lo fai una volta In tutto il mese È ok Magari sta giocando Ti sta provocando Sta facendo un teasing Ti sta usando Diciamo Sta usando delle tecniche Per sedurti Che è ok Tu puoi fare anche Il primo appuntamento Secondo Terzo Durante una relazione Ok Va bene Paragonare ad altri Va bene Non è sbagliato Quello che è sbagliato Invece È che inizi a farlo inconsciamente Non lo sa che lo sta facendo Ma lo fa Più di una volta Ogni tot Lo fa Spesso durante la settimana Spesso durante le vostre conversazioni Spesso Mentre state a tavola Mentre state mangiando Eh perché sai Invece lei no Ha preparato questa cosa Questa persona mi raccontava Questa collega Magari al lavoro Questa amica Eccetera Ecco in questi casi Hai una buona Una buona metrica Ok Per capire più o meno Se ti sta tradendo Occhio che secondo me Il punto più importante È il quarto Il cambio comportamentale Nei due confronti Se perpetrato Ok Quindi se continua Il cambio comportamentale E se il cambio comportamentale È anche in iperpositivo Vale lo stesso Quindi che diventa Molto più attentivo Ok Invece di contrasto A meno attentivo Anche quello O almeno quello Secondo me È una delle tracce Più importanti Perché sei più attentivo Perché ti senti in colpa Perché sei meno attentivo Perché vuoi trascolere L'altra persona Se sei più attentivo È quando hai sensi di colpa Quindi attenzione E valuta anche questo Io ti ringrazio Per essere stato qui Iscriviti al canale Noi ci sentiamo al prossimo Trovi questo libro E tanti altri miei libri Su amazon.com Che così si legga Così si legga Mi raccomando Al link in bio Trovi Anche la possibilità Di accedere Ai miei video Di seduzione Manipolazione privati Consulenze scritte Consulenze private In audio Noi ci sentiamo al prossimo Noi ci sentiamo al prossimo Noi ci sentiamo al prossimo